basta mi ha già stancato la navetta ma se siete solo all'inizio coi miei poteri robotici posso stufarmi delle cose molto prima degli esseri umani beh siccome dobbiamo continuare a lavorare insieme scaricala con delicatezza al tempo per ora mi limiterò a frequentare contemporaneamente qualche bagasciona hai così tanto da insegnarci non ti crea il minimo scrupolo approfittare in questo modo della fiducia della tua fidanzata ma lo dici seriamente no perché mi do più forte